Nei primi due mesi e mezzo è stato il godò del Bari, atteso senza ancora appalesarsi per far fede al suo curriculum sul campo. Ora, per restare ai testi di Samuel Beckett, vuole vivere in bianco-rosso giorni felici. Storia di Mattia Aramu, il 28enne piemontese, stato uno dei colpi a sensazione del calcio mercato estivo. Arrivato nelle ultime ore di trattative e lanciato per la prima volta tra i titolari il 27 settembre nel K.O. per 2-1 di Parma, l'ex Genue Venezia non ha ancora brillato ed è uno dei giocatori sin cui indicati dalla tifoseria per spiegare il mancato salto di qualità che la squadra, allenata prima da Mignani e poi da Marino, non ha ancora eseguito. Mattia Collauto, su di esse i tempi del Venezia ha promosso in A, anche grazie alle magie di Aramu e doppio ex della sfida tra bianco-rossi e lagunari in programma sabato al San Nicola. Legge così il presente. Io, Mattia, l'ho avuto in un anno che si è espresso in due anni, perché anche nell'anno in Serie A ha fatto delle ottime cose facendo sette gol, facendo sette, otto assist, per cui ho visto veramente il migliore Aramu. E non è quello che state vedendo sicuramente. È un Aramu che in questo momento probabilmente deve ancora trovare sicuramente una condizione fisica ottimale, ma credo che debba trovare delle dinamiche all'interno della squadra che gli permettano di sviluppare quelle che sono le sue caratteristiche. Sono otto le presenze totalizzate sin qui a Bari da Aramu, arrivato in Puglia con la formula del prestito, con obbligo di riscatto in caso di promozione. Quattro di queste sono state da titolare, garantendosi in qui un solo assist. Il passaggio al 3-5-2, modulo completamente differente dal 4-3-2-1 d'inizio stagione, impone anche una revisione del suo posizionamento in campo. Qua a Venezia l'abbiamo utilizzato spesso dietro i due attaccanti, a volte ha fatto anche la mezzala. Non credo sia una questione di ruolo, ma una questione di trovare veramente delle dinamiche che gli permettono di aprirsi. Ha detto una cosa giusta, in questo momento sembra timido. Lo vedo anch'io, ancora non è lui. Si deve liberare di qualcosa per riuscire a sviluppare quelle che sono le sue caratteristiche. Ancora non si fa dare il pallone, non riesce a trovare la giocata giusta. Non so se dipenda solo da lui o dipenda anche da quello che sta passando il Bari. Calma, sto arrivando, ha assicurato Aramo a mezzo stampa durante la sosta del campionato un messaggio a se stesso e a Marino che dopo avergli concesso per un tempo la maglia da titolare con il Modena lo ha relegato in panchina a Brescia e impiegato per complessivi 29 minuti Trascoli e Feral Pisalò. Bari lo aspetta da tanto tempo e Mattia vuole smettere di essere Godò. Risponderà alla chiamata già nella sfida al suo passato.